Il Camino per la Pace è il nuovo progetto della guida cilentana Vienna Camarota che a 72 anni ha deciso di rimettersi in marcia e attraversare 22 borghi in tre regioni, percorrendo ben 180 chilometri a piedi per incontrare le comunità, raccontarne le storie e portare il bello della narrazione dei piccoli borghi. Il Camino partirà il prossimo 26 marzo da Serre e attraverserà borghi, strade e terre per parlare di pace sulla strada nuova del 1779, la strada reggia delle Calabrie, ed arriverà a Castrovillari il prossimo 2 aprile. Vienna Camarota attraverserà così ben 22 comuni, partendo da Serre e arriverà anche nel Vallo di Diano, toccando Auletta, Pertosa, Polla, Atena, Sala, Padula, Montesano e proseguendo poi per la Basilicata e la Calabria. Il 26 marzo darò il via a piedi al Cammino della Pace, ha dichiarato la Camarota, che è anche ambasciatrice Archeoclub d'Italia e guida ambientale escursionistica. Camminerò contro le guerre, partirò da Serre e attraverserò complessivamente ben 22 paesi. Un vero Cammino della Pace perché promuovendo i piccoli borghi incontrerò i cittadini, le scuole, i sindaci e le comunità straniere, nell'ottica di un messaggio chiaro basato sulla integrazione sociale e sull'accoglienza. Cammino della Pace